Ma andate, le domande vuole sapere quanto rimanerai ancora al mondo? Due minuti, pum, guacca! Volete fare... Volete fare la domanda a Dio? Sono timido. Dio è timido, lo sapevi? E' un po' che fuori a Dio. Infatti ho fatto uno come te, stavo facendo una gran scopata, il giorno che ho fatto te. Ero a Pecorino e stavo facendo una cosa impegnativa che mi sei venuto tu. E' venuto tu da me, scusatemi ma anch'io mi distrago. Ok, devo presentare una canzone che questi ragazzetti, le stesse di provincia, che sono, mostri sacri, che Bruno Damiani ha fatto questa canzone che si chiama Abbandonata da Dio e dagli uomini. Non lo indominerò mai. Abbandonati da Dio e dagli uomini. E dieci sono Santos. E' un'altra cosa da Dio e da Dio e da Dio e da Dio e da Dio. Bravo! Bravo! di studio e di giro Abbandonando da Dio e dagli uomini con i cammini con i cammini con i cammini senza oggi è facile agli altri di e con le anni senza cortesia Abbandonando in una cesta e dimmi se non mi ami se non mi ami se non mi ami tu se non mi ami tu se non mi ami ridami ridami ero sto predisponendo ciali a te e a te senza la tua e a te e a te e a te e a te e se un giorno ti chiederai di me e a te 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 vi non ci vedo con il mio abbandonati dal Dio e tutti i suoi insibili che controlla il Dio e tutti i suoi insibili e raccontami l'alma che non sei che sia tu mi parla che non sei salvo un'agreteria e se il buongiorno mi chiederai di me mi troverai al fiume a pescare lo sole quando quel giorno camminerai tra queste parti mi insegnerò è un'agreteria controlla il Dio e questo siamo salto di i suoi insibili Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione